Giorno 596. Oggi ci sono molti aggiornamenti dalla direzione di Bakhmut. Qui i combattenti ucraini hanno recentemente sfondato le difese russe lungo i binari e lanciato operazioni sull'altro lato del dorso ferroviario. I membri della quinta brigata d'assalto hanno rilasciato un video che mostra lo sfondamento delle difese russe adoperando carry intorno a Klishivka. Gli ucraini hanno continuato a operare in piccoli gruppi per operazioni più dinamiche controllabili. Questa volta l'unità d'assalto era composta da un T-80, un supporto fanteria CV-90 svedese e un trasporto truppe M113. La strada è stata sminata lo stesso giorno in cui gli ingegneri hanno notato gli esplosivi lungo la via pianificata. Tutti i veicoli hanno mantenuto la giusta distanza per evitare che l'artiglieria ne potesse colpire diversi alla volta. Per fornire copertura allo sbarco, il carro si è diretto nel campo e ha aperto fuoco sulle due posizioni russe nella linea di alberi, mentre gli altri due veicoli schieravano le truppe che hanno preso d'assalto le medesime posizioni. Il carro ha continuato a manovrare per complicare la mira degli ATGM e correzioni d'artiglieria. Mentre i corazzati leggeri si ritiravano, il T-80 li copriva, mentre sopprimeva il fuoco nemico e permetteva alle unità d'assalto di entrare nelle trincee. Una volta iniziati gli scontri, il carro si è ritirato. L'assalto ha avuto successo e gli ucraini sono avanzati ulteriormente nella foresta nord di Klischivka. Per quanto riguarda l'area est di Klischivka, gli ucraini hanno usato una tattica differente. Fonti russe riportano che i gruppi da ricognizione ucraini identificavano fortificazioni russe e sistematicamente, senza fretta, le bombardavano fino a che l'ultimo difensore non fosse stato eliminato. Dopodiché una piccola unità ucraina catturava l'area e si trincerava. Questa tattica è stata usata per far fronte alle riserve russe che hanno inondato la regione e conducevano un'ondata di attacchi dopo l'altra con lo scopo di spingere gli ucraini dietro i binari. Ma alla fine tutti i rinforzi russi sono stati eliminati. I combattenti ucraini hanno pubblicato un enorme quantitativo di video che mostrano la distruzione di equipaggiamento e personale russo. Basandosi solo sui video disponibili pubblicamente, nell'ultima settimana gli ucraini hanno distrutto 8 carri, 14 sistemi d'artiglieria, 2 lanciamissili contraerei, 10 camion portamunizioni e trasporto truppe, 3 corazzati, 3 depositi munizioni e 3 aree di concentrazione di truppe, per un totale di 40 pezzi di equipaggiamento. Molti video non sono stati pubblicati, quindi in realtà il numero è decisamente più alto. Infatti ieri il portavoce del gruppo di Forza Est ha riportato che gli ucraini avevano distrutto 20 sistemi d'artiglieria solo nelle ultime 24 ore. Una campagna d'artiglieria dronica così estensiva è stata il risultato del lavoro combinato della 120esima ricognizione, 28esima meccanizzata, della 5ta e 92esima brigata d'assalto, della 92esima meccanizzata e della 4ta brigata d'artiglieria. Come potete notare, la maggior parte dei bombardamenti sono avvenuti a pochi chilometri dalla linea di contatto, intorno a Pitne, Odradivka, Zaitseve e Kodama, che sono tutte nella linea di rifornimento principale. Dopo aver esaurito le capacità offensive russe, gli ucraini hanno cominciato ad avanzare. I maggiori risultati sono stati ottenuti a est di Andrivka, dove, come precedentemente riportato, gli ucraini hanno assaltato il bunker russo attaccandolo da due lati e stabilito il controllo su di esso. Quest'operazione ha permesso l'espansione ulteriore della stessa di ponte dall'altra parte del dosso e il portavoce del gruppo di forze est ha riportato che gli ucraini erano avanzati di altri 300 metri nella direzione di Odradivka. I membri della terza brigata d'assalto hanno pubblicato un video di una delle operazioni della regione, grazie alla quale hanno catturato il comandante del battaglione volontari Alga della 72esima brigata motorizzata. In generale, gli ucraini sono riusciti a superare una parte estremamente difficile della linea difensiva, hanno resistito a continui contrattacchi dalle riserve appena arrivate e inflitto enormi perdite russi. Infatti, il numero di geolocalizzazioni che mostrano l'equipaggiamento distrutto russo supera quelle della battaglia per Bakhmut. I gruppi da ricognizione ucraini lavorano giorno e notte per monitorare ogni direzione dalla quale potrebbero arrivare nuovi rinforzi. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.